Siamo all'evento Arrow Day Partner, vediamo questa relazione in essere con questo distributore e i razionali di questa partnership. Molto volentieri, come Intel Security McAfee abbiamo organizzato un team in Italia molto forte, stiamo portando avanti delle novità nel campo della security molto interessanti per tutti i nostri clienti. E' chiaro che in questo quadro abbiamo bisogno di lavorare con i top player, sicuramente Arrow per noi rappresenta nel mondo della security in Italia un distributore di eccellenza e alla base della nostra richiesta di lavorare con loro e dell'accordo che abbiamo trovato con Sessuale ovviamente c'è proprio l'intenzione di creare un team molto forte, un team che possa veramente andare in conto alle esigenze prima di tutto dei grandi reseller e dei grandi partner che abbiamo sul territorio e quindi successivamente come ovvia conseguenza aiutare i nostri clienti più importanti a sviluppare una sicurezza integrata che dia veramente le maggiori garanzie, che dia veramente un valore aggiunto e che sia di grande potenziale di sviluppo. Quindi vediamo in Arrow questa capacità. Lei mi ha già in parte citato la strategia, voi state passando da un concetto di strategia aziendale, da una sicurezza best of breed a una sicurezza end to end integrata. Vediamolo un attimo in sintesi. Molto, anche questa è una bellissima domanda, la ringrazio molto. Intel Security McAfee oggi sta proponendo al mercato, ai grandi clienti, una sicurezza integrata che semplifica la parte operation, che rende molto più efficace le attività nella gestione della sicurezza aziendale. In particolare abbiamo un approccio che si basa su tre semplici, diciamo, statement. Protect, quindi protezione innanzitutto. Rimaniamo fedeli alla protezione integrata, ma una protezione globale, dal network all'end point. Detect, trovare immediatamente, individuare rapidamente dove sono gli attacchi. Questa è un'altra richiesta fondamentale dei nostri clienti, perché trovare vuol dire reagire prima, vuol dire evitare che ci siano degli attacchi che portano poi all'interno dell'azienda dei danni notevoli. E l'ultimo step molto semplice anche questo è invece la remediation. Quindi vuol dire portare la remediation, evitare che si espandano questi attacchi maligni all'interno dell'azienda, ma immediatamente portare la remediation che vada anche qui fondamentale dall'end point al network. Ecco, questa è semplicemente la nostra nuova filosofia. Grandi saving, grande efficacia e semplicità nella gestione. Abbiamo parlato quindi di partner, di strategia. Per i partner avete lanciato di recente un nuovo partner program. Vediamo quali sono i punti cardine di questo programma di canale. Molto volentieri anche qui. Per noi è essenziale lavorare con dei partner che non siano fermi all'approccio best of breed. L'approccio best of breed nel passato garantiva la migliore soluzione, ma oggigiorno con gli attacchi avanzati, col tipo di attacchi che dobbiamo fronteggiare, è necessario una sicurezza integrata. Ecco perché stiamo selezionando dei partner che veramente sposino questa filosofia. In Italia esistono veramente dei partner molto capaci, delle eccellenze. Quindi quello che noi lanciamo è un messaggio a tutto il mondo canale. Lavoriamo insieme, ma guardiamo innanzitutto all'esigenza del cliente. L'esigenza del cliente sono i saving e l'efficacia e portare immediatamente una remediation. Questo è un po' il nostro approccio e abbiamo trovato un grande riscontro da parte del canale e dei grandi partner in Italia. La società ha posto un focus particolare su una tipologia di partner che sono i manager service provider. Vediamo un attimo la strategia. Assolutamente. Per noi oggi è molto importante, è un significato fondamentale avere i manager provider services. Abbiamo dei partner importanti che offrono ai clienti questo tipo di servizio. È un servizio innovativo, ma è un servizio che permette di essere molto vicino al cliente, dando lui la possibilità di investire in ciò di cui veramente ha bisogno. Ecco, noi abbiamo un'offerta su tutte le nostre soluzioni, dal nostro SIEM al nostro endpoint, al nostro IPS. Tutte le nostre soluzioni di sicurezza offrono la possibilità di essere gestite attraverso manager service provider che offrono quindi al cliente un canone, attraverso questo canone il cliente riceve il servizio di cui ha bisogno. E quindi per noi è un'altra arma molto importante, un approccio molto importante e strategico per veramente soddisfare l'esigenza del cliente.